Ciao bimbi, come state? Oggi volevo proporvi un'attività, l'attività di appaiamento. Praticamente ci servono 4, 5, 6, quanti ne volete, paia di calzini. Li mischiate, tutti quanti in una cesta, in un contenitore, e dobbiamo riappaiarli, cioè riaccoppiarli, metterli insieme. Iniziamo la nostra attività. Così possiamo anche dare una mano a mamma a riordinare i nostri calzini. Ecco, una volta terminato, possiamo anche piegarli e andarli a riporre nel nostro cassetto. Ciao bimbi, al prossimo video! Ciao bimbi, al prossimo video!